ok va bene va bene agli animali dei nani schifosi un applauso spaventare spaventare della betulla è un ordine della mandragola da hollywood agli animali ok un applauso capito hai capito della betulla schifosi ok schifosi dei nani è una vergogna è una vergogna sennò vi racconto la storia della luna dei nani agli animali è un ordine un applauso agli animali schifosi se no vi racconto so da hollywood un applauso